Il mister in modo molto molto chiaro ha detto che ci voleva carattere, tu ne hai avuto da vendere a battere con il rigore. Sì, non era facile soprattutto dopo l'errore della settimana scorsa, però ero convinto di fare gol, ho preso palla, ero più tranquillo stasera che settimana scorsa, sono molto felice per questo gol e per questa vittoria. Alla lettura nella formazione, quando ho detto il tuo nome, c'è stato un boato, poi alla fine la standing ovation della Nord. Sì, è stata una serata davvero bella questa, è stata una settimana difficile per me, mi sono rinchiuso in casa, uscivo giusto per allenarmi e sono contento, ci voleva e adesso però bisogna pensare già alle prossime due. 180 minuti da giocare così? Assolutamente, con il cuore, ho detto già prima della partita ai miei compagni, diamo tutto, usciamo dopo che abbiamo davvero dato tutto per questa maglia, poi quello che succede succede, l'importante è dare tutto.